Anna Minecucci, allora questa nuova pubblicazione con il Kama Sutra dell'amore, 100 posizioni del cuore. Sì, Kama Sutra sentimentale, le 100 posizioni del cuore, la mia nuova pubblicazione è una nuova sillogia di poesia, pubblicata con la Bertone Editore, una casa editrice di Perugia, con il curatore Marco Ambrosi e la prefazione di Andrea Cacciavillani. È una raccolta di poesie e stampo erotico sentimentale, il titolo è abbastanza d'impatto, è stato dato anche, l'ho voluto per questo motivo, e spero che anche il pubblico lo apprezzi e voglia leggerlo. Anche perché evidentemente si parla del cuore. Sì, sì, certo, di sentimenti, è una sorta di storia che va dall'inizio alla fine, è letta in chiave anche proprio di racconto, quindi si può leggerla in tanti modi, sia attraverso le poesie singole, sia anche in chiave, diciamo, di racconto finale. Tu sei abituata a questo genere di pubblicazioni perché hai alle spalle anche una discreta carriera. Sì, questa è intanto la seconda raccolta di poesie, l'altra è stata pubblicata nel 2016 con una prospettiva editrice, sempre, diciamo, nell'ambito di poesie erotico sentimentali, e il genere è più o meno questo, perché poi alla fine ognuno di noi, quando scrive poesia, ha comunque una predilezione per un certo genere di poesia da scrivere, in base a quello che è. Tra l'altro, ultimamente, ti hanno anche inserito in una giuria? Sì, allora, io sono già tre anni che faccio parte di una giuria di un concorso, che poi oltretutto ho anche vinto per tre anni consecutivi con delle prime posizioni in Toscana, con il Corriere dello Spettacolo, e quindi sono un paio d'anni che sto facendo parte della giuria, che ovviamente adesso non partecipo più, dopo le varie vittorie che ho ottenuto con questo concorso. Hai superato anche quel momento di ansia, no? Che c'è sempre. Sì, sì, diciamo di sì, quella rimane sempre un pochino, è normale, poi passa. Quindi, che cosa augurarsi? Che il pubblico apprezzi? Sì, quello sicuramente, che mi arrivino anche le emozioni che ovviamente cerco di trasmettere. Grazie. Grazie.